Ormai questa città la dovrei chiamare Nuova Torino o qualcosa del genere Ah ve gente sono Larus e coni qui su City Skyline nella serie Sindaci Dunque in questa puntata ho diverse idee e mi avete proposto diversissime idee Però prima voglio risolvere diversi problemi che sono già presenti ancora nella città vecchia Dunque il primo problema di tutti è la viabilità su questa rotonda Meno male grazie alle mie migliorie che ho portato nella zona la rotonda adesso è un po' sistemata Peccato che qua continua a sussistere il problema dello spostamento delle merci in questa zona Purtroppo la maggior parte dei merci se notiamo sono trattori o unità commerciali che si spostano per uscire dalla città La maggior parte fanno questo tragitto prendono l'autostrada non so dove vogliono andare Dunque fatto sta la maggior parte fanno questo tragitto qui e adesso non lo sta più facendo nessuno Però per migliorare per velocizzare il passaggio per non causare altro traffico nella zona Preferisco unire una rampa far passare da qui una rampa e unirla a questa zona Che comunque è sempre una rampa che porta nell'autostrada Così abbiamo risolto un problema Secondo problema riguarda questa rotonda Questa rotonda è inutile che abbia così tante corsie Perché crea semafori Se voi fate delle strade che sono da più di due corsie Creano semafori È un must Quindi è inutile perché poi oltretutto queste corsie che ci sono in più non vengono sfruttate Quindi farò delle strade a senso unico Qua E togli i semafori Prima cosa togli i semafori ed è fantastico E oltretutto Mette due corsie in più Cioè lascia due corsie però Cambia poco perché intanto tutti stanno sulla corsia di destra Quindi che cosa cambia? Adesso tutti vanno su marciapiede E la viabilità dovrebbe prendersi un po' di più Dunque Aspettiamo un attimo Visto alcuni quelli che devono già girare iniziano a girare subito Poi qua c'è un pick up parcheggiato così A caso E inizia già a prendere un po' più di movimento la strada Ovviamente il traffico qua è incredibile Ed è normale più o meno E vedremo un attimo cosa fare Poi oltretutto Siccome qui la maggior parte dei cittadini Oltretutto deve andare anche in questa zona Facendo un bel giro Direi Si può fare Una piccola variabile Una piccola variante Facciamo Una strada Che tagli in mezzo alla rotonda Che si solleva sul terreno E inizia a fare una curva Stato questo punto di vista Perché? Così poi dopo Siccome la maggior parte dei cittadini Utilizzano Escono da qui Per poi dopo magari andare in questa zona qui Che è una bella zona commerciale Invece che fargli fare tutta la rotonda Che creano traffico Gli facciamo subito una rampa Che poi dopo si unisce qui Con un'intersezione Semplice semplice Nulla di complesso Perché non farlo? Quindi Facciamo subito così Abbassiamo magari un po' Se è possibile Ok È un po' brutto da vedere Però Dovrebbe essere molto utile Sì è molto brutto da vedere Però Vedremo Se ha una certa utilità Intanto Qua il traffico Si sta un po' smuovendo Ed è fantastico Rimane solo tanto traffico qui In questa zona della città Però Non importa Poi del resto La popolazione sta diminuendo abbastanza E uno dei commenti Me l'ha fatto pure notare Ehm Cosa Voglio fare Per Risolvere questo problema Direi abbassare le tasse Perché noi guadagniamo tantissimi soldi E perché no Possiamo abbassare le tasse Specialmente quelle residenziali Dunque Direi al 10% Ci può stare Pienamente E Commerciai Non so se sono ancora pronto Per fare una cosa del genere Proviamo Al 9 9 Giusto per essere un po' più temerari Vediamo un attimo Quanto guadagneremo Niente Avremo Forse un bel calo Però La popolazione Inizia un po' Già un po' a aumentare Poco Abbiamo avuto un bel calo Dei guadagni Un calo piuttosto grande Vediamo se Riusciamo comunque a A trattenere Qualcosa No Mi sa che va Già In picchiata Forse Però Possiamo trattenere qualcosa Forse Ce la possiamo fare Sì ok Stiamo trattenendo qualcosa Bene Questo dovrebbe incoraggiare La richiesta Di Di Zone residenziali Infatti sta aumentando tantissimo Adesso E qua Stiamo realizzando Noi case Appunto Fantastico Qua c'è l'acqua Sì E qua c'è un incendio E anche qui c'è un incendio Dannazione Che qualcuno utilizza Questa strada qui Anche per andare Nelle varie zone Della città E' fantastico Ottimo Questa strada qui Viene pure utilizzata Quindi qui abbiamo Un po' smorzato Il traffico Ok Dal resto Cosa si può fare Abbiamo una grandiosa Richiesta Adesso Di cittadini Meno male Stanno arrivando Finalmente E direi di Rendere ancora più esenziale Quest'area Oltretutto Ho bisogno di più cittadini Perché la maggior parte Dei fabbriche Guardate Iniziano a avere dei problemi Per quanto riguarda La popolazione Quindi Vediamo se si può fare qualcosa Intanto stanno scoppiando Un casino di incendi La mia città E non è una grande cosa Ora Poi per quanto riguarda I parchi Ci sono certi parchi Che proprio non sono Accessibili Ma per niente Soprattutto in quest'area qui Dunque E anche qua Non è che siamo messi Troppo bene Sotto questo punto di vista Qua si può realizzare Un parco O qualcosa del genere Spero di sì Ok Così aumentiamo un po' La felicità nella zona E qua Un altro parco Aumentiamo un po' La felicità Che serve Per questa area Poi oltretutto Qua stiamo costruendo Due case Ah e a fine video Metterò il piccolo montaggio In cui Metto tutte le persone Che hanno richiesto qualcosa Una casa O qualcosa del genere Nella città Qua ho fatto Anche una linea di bus A telecamere spente Per portare fino a superga Però a quanto pare È una linea di bus Totalmente inutile E quindi Sa che la sopprimerò In questa puntata Quindi Via Ok Poi Mi avete chiesto Di fare una linea Metro Da Tra le due zone Della città Non conviene Perché la metro Conviene solo Nel caso In cui riesce a trasportare Più di 300 persone Se vuoi fare un guadagno Non conviene C'è già un'autostrada C'è una linea degli autobus Ovviamente fare un giro Per tutta la città Diventa un bel problema E qua stiamo avendo Un po' una crisi Per quanto riguarda Oh qua abbiamo Una domanda Residenziale Che è altissima Alle stelle Quindi Cosa si può fare? Dobbiamo innovare Un po' la zona Allora Qua posso fare Una grande zona Residenziale A bassa densità Perché no? Si può fare E qua Cosa facciamo? Dunque Facciamo delle vie Con degli alberi Giusto per rimanere Un po' più In tema torinese Dunque Possiamo fare una strada Così Comunque parallela Alle altre strade Che ci sono già E seguendo Tutta la zona Della Della costa Insomma Costa come si può chiamare Facciamo così Ovviamente Dove abbiamo La possibilità Ok Qua abbiamo già fatto Una piccola zona Con tutti gli alberi Guarda che carina Che è Ora Qua Iniziamo a fare I blocchi Residenziali Ovviamente non sulla rotonda Perché la rotonda Inizia a creare subito Dei problemi Per quanto riguarda Il collocamento Degli edifici Un corretto Collegamento Degli edifici Ok Così Questa zona qui Sta diventando Una zona Bella Residenziale E abbiamo aumentato Un casino La richiesta Di Nuove Abitazioni Potrei fare Ad alta densità Però Non conviene Tuttavia Adesso Che ho fatto Così Tanti Tanti edifici Direi Che Per collegare Le due zone Siccome è una zona Piuttosto importante Direi di fare Delle Intersezioni Senso unico Tra le due cose Così Non creiamo Troppi problemi Ogni tanto Uno Può andare Da un lato E dall'altro Della zona Senza Causare Problemi di traffico Ok Dunque Così Così E siamo messi Piuttosto bene Ora Qua Ho bisogno Di fare qualcosa Per quanto riguarda Adesso si La metro Mi serve Oltretutto Guardando un attimo Qua Stavo pensando Di togliere Le case Vicino al molo Però forse Ho fatto una casa Per qualcuno Vicino al molo Non mi ricordo Se qualcuno Mi ha richiesto Una casa Vicino al molo Mi dispiace Mi sa che Dovrò toglierla Perché Se c'è tanta Richiesta Commerciale Che intanto Qui effettivamente Ho fatto Una sovrapproduzione Qua si può Togliere un po' Queste case qui Sì sono un po' Distanti Direi Vediamo di toglierle Tutta questa zona qui Le case Che non servono Così tanto E voglio farle Più che altro In una zona Un po' Più compatta Magari conviene E ok Qua c'è bisogno Di acqua Vediamo di fare subito Portare subito L'acqua Ok E qua direi Possiamo togliere Senza dubbio Tutte le case Che abbiamo fatto Per farsi Che così possiamo Fare delle zone Commerciali Zone commerciali Pro turistiche Senza dubbio Qua Voglio fare una zona Un po' più turistica Sempre che percorre La stessa strada Manca oltretutto Elettricità In quella zona Ovviamente Non è possibile Qua facciamo Delle abitazioni Per tutta questa strada Qui che segue Il molo E ok Dunque Questa zona qui Pino Torinese Voglio fare una zona Turistica Quindi Andiamo subito Nella programmazione E facciamo Turismo Fantastico Così diventa Un po' più interessante Guardate qua le nuove case Che stanno Ah questo qua non è la casa È la postazione Polizia Che casa strana No Qua c'è Stratus Hotel Qua c'è Dino Oil E qua stanno facendo I primi coschetti Di fianco Alle varie zone Direi Qua abbiamo Possiamo fare un po' di parchi Intanto qui abbiamo Una bella area In cui possiamo Edificare diversi parchi Sfruttiamola senza dubbio Così Già un bel parco qui Ogni tanto Tra le case Questa zona qui sta diventando Molto pacifica Mi piace Guardate come Nasce il sole Nella zona di Superga Magari nella zona di Superga Potrei Ecco Potrei fare una zona Un po' più Di hotel Dei residence Qui Nella zona Subito dietro Superga Dunque Ci potrebbe stare Perché no Qua dietro Delle zone commerciali Così i turisti Saranno attratti Dalla collina L'unica cosa È che non voglio fare Un impatto ambientale Troppo elevato Quindi La faccio subito Dietro la collina Perché se la faccio davanti Crea una brutta immagine Della mia piccola Torino Dunque Collina di Superga Direi Pam Oppure potevo anche fare I murazzi qui Oddio È un'utilità geniale I murazzi qua Potevo fare Anche se sono Dall'altro lato del Po Molti me l'hanno detto Potrei fare il murazzi Che così tutta area Da divertimento Purtroppo I murazzi Cioè Esistono ancora Però non esiste più La vecchia zona In cui C'erano i vari locali Perché oltretutto C'era un bello spaccio Quanto Ho scoperto Ho scoperto che c'era Un bello spaccio Di droga lì Però Tanto tempo fa Ora Poi mi pare Che ci possa essere ancora Non lo so Direi qua È necessario Fare Una Bella metro Adesso si che è necessario Perché Adesso Sono riuscito finalmente A aumentare un po' La richiesta Di Nuove abitazioni Qua abbiamo bisogno Per forza Di creare un collegamento Rapido Tra le due zone Aspettate Ok Abbiamo fatto un collegamento E qua vediamo Nuova linea Una linea Che facciamo Che va fino a qui E poi dopo torna indietro Perché no Perché no E anche una linea va Oppure possiamo fare La stessa linea Che fa il tragitto Spermato Circo Massimo Ma però Comunque diventa Troppo incasinato Potrei fare due linee Diverse Invece Tra una nuova linea Che arriva qui E poi dopo torna indietro Ok Manca un po' di acqua Vedo Da qualche parte Sì Sì qua c'è qualcosa Dimenticato Ok Non importa Su c'è l'acqua Qua manca l'acqua Tra l'altro Facciamo nuove zone Dell'acqua Fantastico Ed ecco qui Che c'è la polizia Che sta facendo le pattuglie Su Superga Così Fantastico Ora manca anche dell'acqua Alla metro Piccolo dettaglio Ok Iniziano a prendere Alla metro I primi passanti E possiamo fare anche una Linea Dell'autobus Che parte da qui Si fa tutti i bei giri Della zona Tipo Qua Qua Poi non so Fino a quando ci sono case Ecco qua Iniziano a finire Poi dopo si torna subito indietro Qua Qua E completiamo la linea Ok Abbiamo già fatto un'altra linea Fantastico E la popolazione comunque Sta iniziando un po' a lievitare Nella zona Diamo qui una serie di case Tutte uguali E ci sono nuove abitazioni Dunque Sperando che questo Possa portare nuovi lavoratori Nelle vecchie zone della città Lo spero vivamente Però Vediamo Non è che sono troppo fiducioso La metro dovrebbe incentivare Questo spostamento Però Sono un po' dubbioso Poi costa un bel po' la metro Tra l'altro Tuttavia Sto guadagnando Altri soldi Perché questa zona qui Ovviamente Qua bisogno C'è una casa abbandonata Direttamente dall'acqua E qua sopra Non sta nascendo nulla Per quanto riguarda Gli edifici Purtroppo no La domanda Non è troppo elevata Peccato Vedremo un po' Cosa fare Oppure potrei rendere Questa zona qui Una zona divertimento C'è una divertimento E va E va bene così Dai Qua ci sono gli orsi Cioè Superga gli orsi Ok Del resto Cosa si potrebbe fare Per quanto riguarda Gli spostamenti Sì Possiamo sopprimere Magari l'autobus Almeno Questo autobus qui Che per carità È fantastico L'adoro Però Adesso che c'è anche Già l'altra linea Ho soppresso Ho fatto un casino qui Ho fatto dei casini Con queste linee Aspettate Uno Due Ok Qua rifacciamo tutto da capo Così Ho tagliato per sbaglio La linea sbagliata Ok Torniamo indietro Stop 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 E infine Completiamo la linea Ok Bene Così Tutti i passeggeri Degli autobus Sono un po' più incentivati A utilizzare la metro Direttamente Invece che utilizzare L'autobus Che l'autobus Ci mette un bel po' E crea anche traffico Creano pochi problemi Di traffico Potrei anche creare Un treno Che collega le due zone Solo che Diventa un bel casino Dovrei far passare La ferrovia Fin qua giù Per poi dopo Però comunque Una spina dorsale Costituita dal Dal treno Potrebbe servire Quindi Direi Anche per i sindaci Delle Che verranno dopo I disgraziati Direi che posso collegare qualcosa Qua posso Si potrebbe far qualcosa Dunque Allora So che qua diventa un bel problema Cosa fare Come farlo Dunque Riesce a farmi una linea dritta Assolutamente no Figurati se riesce a farmi una linea dritta Ehm Si Vediamo se riesco Intanto qui Devo togliere il tab Ok Vediamo Se faccio una linea Che va Ancora un po' diritto E qua riesco a collegare Le due zone Non riuscirò Mai a collegare Le due zone Ok Facciamo un'altra cosa Dunque Da qui Ok Ce l'ho fatta Collegato le due zone E qua Devo Oh mio Dio Oh mio Dio Devo trovare un modo Per collegare Le due zone Qua ovviamente C'è una Dice Troppo ripida E dobbiamo passare Anche sopra Una bella discarica Oddio Direi che così Possiamo arrivare un po' più giù Qua c'è una Bella distensione verticale E poi dopo Fare una curva Un po' più Carina E tentare sempre un po' Di abbassarci Così Taglieremo un traliccio Della luce Però non è un problema Non è un mio problema Non è un problema Così esagerato Ok E il C'è un altro problema Che è piccolo Ma veramente piccolo Dove cavolo Lo faccio Cioè si Faccio passare Tutta questa zona qui Potrei anche farlo Passare sotto Che così Creo Poi dopo un collegamento Che salta Questa zona qui Oh Mi è venuto Mi è venuto Un'idea geniale Seguitemi un attimo Che mi è venuta Un'idea geniale Faccio passare qua sotto Per poi dopo Farlo sbucare fuori Oh mio dio Ok 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 C'ho un'idea Perfetto Dunque Il mio piano È far partire Una strada Questa rotonda Oddio Oddio Ho già paura Far partire una strada Che sta rotonda Che passa sopra l'autostrada E si collega alla ferrovia Geniale Geniale Così Sollevati Innalzati E levati dal terreno Oppure potresti anche andare Sotto terra Solo che ci costa un pochettino Ci costa un pochettino Ma noi ce ne freghiamo Che così Non creiamo Troppi problemi Sotto questo punto di vista Ora Vedi di uscire fuori Così Fantastico Perfetto Siamo riusciti a creare Una galleria Che passa sotto Ed esce qua fuori Infine Direi Facciamo una stazione Del treno Così Tanto per Per divertirci Ah sì Lo devo piazzare Di fianco Una strada E continuo Andare un po' così E vediamo Di piazzare Questa ferrovia Dannata Questa dannata Ferrovia Dunque Come altezza Troppo elevata Non c'è abbastanza spazio Davvero Fatemi un attimo Ricostruire Allora Dunque Se faccio così E abbasso Un po' L'altezza Siete più contenti Magari Spero di sì Perché Sto avendo Seri problemi Allora Fare questa Stazione Come Oh qua c'è uno Ecco Ho trovato L'ingegneria Ok Vediamo di risolvere Questo problemino Qui Di ingegneristico E vediamo Di collegare Correttamente I binari Ehi Sì sì Così Così Oh sì Così è fantastico Perfetto E vediamo Oltretutto Facciamo anche passare Qualcos'è perpendicolare Così E abbiamo creato Una stazione del treno Abbiamo anche fatto Questo raga Siamo riusciti a fare Stazione del treno Piuttosto strana Dei binari Che passano sotto E si collegano Così abbiamo Un altro collegamento In più E questo collegamento Qui invece Nuova linea Da qui Fino Questa zona città Per poi dopo Tornare indietro Mi pare Logico E giusto Così abbiamo Completato una linea Questa linea qui È ferroviaria Ovviamente Era un consiglio Di fare queste linee Ferroviarie Nel caso In cui la città Deve collegare Proprio zone Di città Molto distanti E la città Deve essere Molto molto grande Tuttavia Qua abbiamo Degli impedimenti Fisici Che sono Non pochi Per collegare Le due città Quindi in questo caso Eccezionali Direi che si potrebbe fare Dunque capisco Che questa Io a fare le ferrovie Sono forse il peggiore Di tutti Però Vabbè Era qualcosa di necessario Ok Abbiamo già un treno Di passeggeri Che sto facendo Un bel tragitto E facciamo anche Una linea Di passaggi Così Insomma Ah qua abbiamo bisogno Anche di altro Facciamo Una linea Dell'autobus Che torna qui E poi dopo Collega il tutto Così almeno Abbiamo anche Una linea di autobus Che può collegare Le due zone Perfetto Ok qua Invece Abbiamo Dobbiamo fare Un collegamento Fino a qui Ok Poi Devo collegare L'acqua In quella zona Fantastico Poi adesso abbiamo Più richiesta Per quanto riguarda Costruire nuove zone Abitative Quindi Sberbang No Sbagliato Sbagliato di brutto Sberbang Tutte zone qui Voglio fare una zona A bassa densità Pino torinese E ok Dunque Vediamo come Andrà avanti Questo piccolo collegamento Forse qui Mi sa che dovrò fare Una zona commerciale Perché ci arriveranno Un po' di persone Però potrei anche fare Degli uffici Perché no Però intanto Qui c'è già una bella richiesta Nessuno Nessuno va Forse perché comunque È un po' troppo distante Forse Non ci sono Troppi Intrattenimenti Eh Forse sì Forse per questo Ma perché io sono un genio No Ah Ho paura per un momento Che ho fatto una zona Una via sola Ok Ora Abbiamo anche una Spina dorsale Salda Per la costruzione Di nuove zone In questa Area A sinistra Qua mi sono rotto Le balle Che continuano A avere Poca acqua E così faccio Direttamente Una conduttura Lunga Ok Dunque Speriamo che Le mie richieste Eh Ho messo Tutti questi edifici Qui Disponibili E qua i lavoratori Comunque continuano A avere un po' di problemi Però spero Che comunque Questa richiesta Possa essere Un po' più rispettata Da Dalla stazione Del treno Che Farà il suo lavoro La metro Vedete Non è che Può servire Così Tanti Passanti Non è che Ha questa Capacità elevata Però può fare Già qualcosa Qualcosina Può già fare Beh si Inizia già a fare 121 Vabbè 121 È abbastanza Qua Non so se ci vanno Troppe persone E Qua abbiamo un problema Con la polizia Prima di chiudere La puntata Che forse La sto tirando Un po' troppo Per le lunghe Vediamo Subito Magari Di fare Qualcosa Che possa servire Per tipo Il vigile del fuoco Sempre vicino Alla rotonda Consiglio Tutti questi Servizi qua In posti Che si possono collegare Con il resto Poi dopo Polizia Sì qua la polizia C'è La nuova zona È fantastico Per questa puntata È tutto Votate Commentate Fate delle vostre richieste Adesso vi lascio Invece Ah ho chiamato La città Augusta Laurorum Perché Tangent Topolinea Era un nome Tristissimo Quindi ho deciso Di cambiare Ci sentiamo Alla prossima Vi lascio Col montaggio Dalle piccole cose E ciao Ciao Alla prossima Alla prossima